Buongiorno, vediamo oggi cosa ci dice l'oroscopo. Arriete, evitate ogni polemica, fate in modo da ascoltare e non replicare anche se non siete d'accordo. Toro, potreste avere a che fare con persone importune. Gemelli, avete bisogno di staccare la spina dalla routine di coppia, prendetevi una pausa per riflettere. Cancro, potrebbero esserci dei momenti di tensione e di tristezza. Leone, potreste ricevere una risposta indesiderata da chi non ve lo aspettate. Vergine, usate prudenza e buonsenso. Bilancia, organizzate qualche serata piacevole con gli amici. Scorpione, Marte e Mercurio possono eventualmente influenzare la vostra giornata, rendendola leggermente nervosa. Sagittario, in amore prendete coraggio e affrontate il problema che vi affligge. Capricorno, avrete a che fare con persone che non vedete da tempo e con i quali i rapporti si sono abbastanza diradati. Acquario, poca sicurezza nei rapporti con gli altri. La vostra timidezza potrebbe tirarvi qualche brutto scherzo. Pesci, Saturno capriccioso vi renderà insofferenti in serata. Questo è tutto, a domani con il prossimo appuntamento dell'Oroscopo. Grazie a tutti! Grazie a tutti.